Abbiamo ancora degli ospiti italiani, un gruppo, la loro prima esperienza come professionisti. Si chiamano Milano Centrale, quello che ci propongono è il motivo che li ha fatti vincere, li ha portati alla vittoria in quel concorso che si chiama Musica in Città. Ora, oggi Milano Centrale, Milano Centrale, ci propongono questo motivo intitolato Eggia Mattina. Grazie a tutti. Sai, non mi va giù, che una notte come questa proprio adesso stia per finire. Poi, se ci sei tu, tutto sembra molto meglio anche se continui a dormire. In questa vita che passa via senza guardare, non c'è modo di fermarsi neanche un giorno a respirare. Tutto viene e se ne va, troppo in fretta, un amore che finisce, c'è un'altra storia lì che ti aspetta. Ma questa notte io la devo vedere, mentre muore sotto voce se ne va, e domani sta arrivando il colo qua. E' già mattina, piano piano la città sta svegliandosi e intanto è già mattina. E' la luna da lontano, strizza l'occhio e vola via già mattina.